Sono Rocco Braz nel cespuglio, nel cespuglio, nel cespuglio Da festival, no? Vabbè, comunque non dicevo niente a nessuno E mi chiamavo Zedef Notifica E suonavano i pezzi Allora, c'era tutto, ho detto Vabbè, ma se provassi a fare il DJ È una buona occasione per cercare di suonare in tutto All over the world, no? E un amico che mi aiutava in questo progetto dice Ma! Idea geniale Perché non fate Avevo fatto Bravi, chi è che l'ha detto? Avevo fatto tricco e duro Avevo collaborato con i tricco Avevo fatto questo pezzo duro Che era giracchiato nei festival Giuro, cioè Non ancora si poteva andare Sì, lo suonavano Praticamente Vabbè, avevo fatto sti pezzi Che li suonavano tipo negli ascensori di Las Vegas Allora Praticamente io e la Ferri Cioè no, io Lo so, sono boomer, raga Che ci devo fare? Praticamente Facevo queste produzioni di M E quindi mi suonavano dei DJ Abbastanza conosciuti Che però non sapete C'è Non succede Quando fai queste cose qua Ti suonano i pezzi Ma poi non succede niente Non ho scritto all'attami Chattami Fai super ridere Voi della chattami fate super ridere Ma ti ha detto all'attami Ma il problema è carino Ma non è carino È un complimento Perché ho delle belle tette Eh sì Ferri, non possiamo fare queste cose qui Allora Stavo dicendo No, raga, dai Dai Ragazzi No Basta con questo all'attami No No Non lo fa comunque No No Va bene Posso Volevo raccontare una serie Ma racconta sta caccia di storia Vabbè Non mi caga nessuno Scrivono tutti all'attami Ma ascolta la gente Riescono a fare due cose contemporaneamente Vabbè Praticamente Io facevo questo Questo Queste cose Queste produzioni Quindi ho detto Vabbè Provò anche a fare il DJ Tanto è Non è difficile No E quindi ho imparato a usare Tutte le cosine A un certo punto Questa persona che mi aiutava Dice Oh idea geniale Perché non fate la coppia DJ E raga Allora Io sarei stata super Fermiamoci Fermiamoci Allora Praticamente Non si sa come Il manager dei Chainsmokers Viene a sapere questa cosa E ci convoca a New York Negli studi Perché il manager Noi eravamo lì per fare una campagna di svarossi Sì va bene Però Ci aveva contattato E lui ha questa etichetta Che si chiama Disruptive Tipo Adesso non mi ricordo Un'etichetta con un nome Tutto ganso E Praticamente C'è Latteria Ferragni Cosa ha scritto? Latteria Ferragni A me fa molto ridere E continuo In Roma a New York Ci ha scritto Ci ha scritto Il manager dei Chainsmokers Che ci convoca In un ufficio molto bello E dice Ah beh Secondo me è una bella idea E io gli dico Guardi Cioè io faccio le produzioni So suonare Suonare So usare i cazzi di cose Di cdj Però mia moglie Non ha Cioè Mia moglie Non è capace Vabbè Quanto ci vuole imparare Sì quanto ci vuole imparare Allora vabbè Portiamo avanti questa cosa Sembrava che lui fosse interessato A fare tutta sta roba qua E allora io e la Ferri Prendiamo insieme lezioni Abbiamo presa una amore Appunto una Una In quella lezione lì Allora c'era un pezzo Vi faccio un esempio No adesso Guardate la Ferri Che batte le mani a tempo Perché Amore Batti le mani a tempo Su questo pezzo Vai 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 le mani a tempo Amore Ok Batti le mani a tempo Su questo pezzo Vai Eh no Inizia tu Ma perché io le faccio con la music Io non so il tempo Eh vabbè Vai Batti le mani a tempo Ok Voi dite Questo è punk No ragazzi Mettiamo un pezzo IDM Mettiamo Non è vero No così è sbagliato Fammi parlare No no Mettiamo un pezzo IDM normale Dai vai Batti le mani a tempo Su questo pezzo No aspettate ragazzi Perché Io non so bene Cosa vuol dire fare le cose a tempo Io non ho mai fatto cose Eh appunto Ma se uno non mi spiega Cosa vuol dire Ma infatti Il manager dei Chase Smoker Non sapeva che tu Cioè perché quando devi suonare Devi seguire il tempo Sì ma è una cosa Che chiunque riesce a imparare Basta che Amore Non riuscivi ad andare a tempo Premendo un tastino Guarda Ditegli che è un bullo Ma che bullo Ma che bullo Che bullo Abbatti le mani a tempo Su questo pezzo Dai No mi rifiuto Dai Ma non devi Quando suoni Non c'è uno Che ti batte Scusate Tu per fare la DJ Avresti bisogno di uno Di fianco a te Che ti fa E poi tu Non sono un bullo Raga Non sono un bullo Cosa ti c'è Cioè secondo te Uno quando fai lo DJ È lì a fare No No babba Devi te Ma non ti ricordi Devi premere il tasto Ma ce la faccio a te A toccare un tasto E allora fai finta Che c'è un tasto E vai a tempo col tastino Vai Ma non è vero Che lo devi continuare Sì Vai 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 a tempo Ma fai così Poi fai tutto il tasto Ma che cazzo Ma scusa È così Il sapobullo È veramente un sapobullo Ragazzi Dai a tempo Dai inizia a far vedere Aspettiamo la cassa E vabbè Ma non è che c'hai bisogno Del dito di sostegno Scusami eh È una bellissima Vabbè sta rifatto raga Che abbiamo preso le lezioni Abbiamo capito Non ha capito Che lui Negli ultimi dieci anni Della sua vita Ha fatto musica E io no E quindi è normale Ma infatti Nel tempo E io no Ma era un'idea del cazzo Ma infatti era un'idea del cazzo Io posso imparare Qualsiasi cosa Imparavo a fare la DJ Anzi adesso sai cosa vi dico Diventerò una DJ da sola Altro che Tiger Lily Oh dissing No vabbè io non ho niente Contro di lei Ma se prima hai detto Che era Tamarra È un po' Tamarra Vabbè Penso che sia una cosa DJ Ferri DJ Ferri E sarebbe bellissimo Vabbè Comunque Alla fine Il manager dei Chase Smokers Si è tirato indietro Perché Stai che mi chiamerò Latteria Ferragni Caseificio Ferragni Robiola Cosa che ho letto Cosa che ho letto Robiola DJ Tettona Anche bello No DJ Tettona è troppo scontato DJ Pantenne No vabbè Senza marchette ragazzi La Ferri e Fuoco Bello Ferri e Fuoco Esatto Ferri e Fuoco Spacca Vabbè Sta di fatto che alla fine Chiara è rimasta incinta Il manager dei Chase Smokers Ha detto Ah no sei incinta Non voglio fare niente Ebbè Era un po' una scusa Sì Perché l'ha vista Fare così col di te No ragazzi Non è vero Abbiamo fatto una lezione E io non ero brava A tenere il tempo Perché non l'avevo mai fatto Vabbè ho capito Lui l'ha fatto 10.000 lezioni Sapeva già fare il DJ Scusate È normale che era più bravo di me Ma eri proprio Non eri in grado Madonna Ragazzi lo potete dire Che comunque così Non è un marito Molto di supporto Cioè uno ti insegna le cose Ma l'ho presa Era una roba per ridere Patata Dai Era per ridere Su Adesso ho scammato Tutte le donazioni Devo salutare tutti No dai guarda Fare dopo Adesso guardiamo Il collegio Che io fa mezz'oretto Va bene Intanto smuto però Smuto Dopo le ascolto Mi frecarò che No non sono tanto brava Non sono per niente brava Mi piace perché sei umile Il collegio È veramente bullets ragazzi Ma perché bull Ed è un bullo Eh sì Non posso essere simp e bullo Scusate La cosa peggiore È simp con le sue ex Ma non è vero Ma Ferri Tu non puoi dire davanti A 25.000 persone Queste cose Non paga lì Lui non eri un simp Non ero simp Ero preso Simp bully Simp bully Allora L'assemblea straordinaria Simp Ma ti rendi conto Che Roccobraso Si sta segando Mentre sta già editando Il video di domani Chi è? Il freebooter Ma è una persona Andrea Non è il freebooter